le marche, addirittura non erano attese precipitazioni. Di fatto si è verificato poi nelle ore successive uno degli eventi più difficili da prevedere per i meteorologi allo stato attuale delle conoscenze, cioè la formazione di una cella temporalesca di grosse dimensioni, cosiddetta autorigenerante, è rimasta ferma per qualche ora a scaricare quantitativi d'acqua enormi nella stessa zona che purtroppo era una zona densamente abitata del nostro territorio. La massima precipitazione registrata negli ultimi 70 anni è stata addirittura più che raddoppiata da questo evento. I livelli dei fiumi del Nisa e del Nevola che abbiamo registrato hanno visto risalite di 6 metri in due ore, eravamo abbastanza confidenti che l'allerta gialla fosse il livello di allerta più idoneo. Sotto questo profilo la Regione dal 2016 ha iniziato a introdurre, a fare e a programmare dei finanziamenti importanti. Questi finanziamenti partono da 21 milioni di euro all'anno nel 2016 fino ad arrivare alla programmazione attuale che stiamo completando di 73 milioni anni. Cioè la Regione sta investendo sui fiumi in questi anni una quantità economica che credo che sicuramente negli anni precedenti quando aveva la provincia era qualcosa di assolutamente minore e veramente irrilevante. Le opere che poi possiamo anche descrivere nel dettaglio comunque realizzate in particolar modo sono gli argini, chissà a Senigallia l'altra volta nel 2014 ci sono stati degli argini che non hanno tenuto, in questo caso non sono stati rifatti completamente. Abbiamo un ponte che è stato rifatto perché era l'elemento di debolezza maggiore e di occlusione da parte di Senigallia e poi abbiamo anche la cassa d'espressione che vale più di 4 milioni di euro che era iniziata diciamo inizio 2022 la realizzazione. Volevo dire un altro tema oltre quello delle opere quindi quando si dice che ci sono soldi che non abbiamo utilizzato non è vero nel senso che i finanziamenti regionali noi fine anno li utilizziamo tutti i finanziamenti che abbiamo ci vengono dati dal Ministero e dalla programmazione comunitaria che fa la Regione li stiamo utilizzando con le difficoltà chiaramente di fare delle gare di fare le espropie vi dicendo ma li stiamo utilizzando. Io temo che per un evento come quello che abbiamo visto in queste ore anche se le vasche di espansione fossero state realizzate e finite Senigallia finiva sott'acqua uguale secondo me. Guardate stamattina stavo per dire scherzavo ma c'è poco da scherzare col sindaco di Cantiano col sindaco di Cagli non c'entra nulla con Senigallia fino alla settimana scorsa attingevamo acqua da un pozzo di profondità il famoso pozzo del Burano per alimentare il fiume perché il fiume era in secca. Quella era l'emergenza della protezione civile della settimana scorsa attingere l'acqua da un pozzo di profondità perché non c'era l'acqua nel fiume oggi siamo lì a contare i danni dentro il paese di Cantiano dello stesso fiume che è esondato e un'esondazione in montagna io non l'ho mai sentita è detto in fanese perché l'esondazione la fa valle l'esondazione in montagna vuol dire che ha fatto una roba che non si era mai vista prima che non era mai successa prima quindi capiamo che è veramente una cosa eccezionale. Grazie